Se vuoi entrare nel mondo dell'astronomia ti consiglio di seguire questi 5 consigli che ti do e mi raccomando segui il video alla fine questo video perché alla fine ti darò anche un consiglio bonus ma prima sigla Ciao io sono Luca e sono youtuber e racconto un'astronomia facile per tutti quindi ti consiglio se vuoi sapere di più di questo mondo di iscriverti al canale Il primo consiglio che ti vorrei dare è di non imparare cose difficilissime ma cerca di iniziare a imparare cose semplici, basilane e poi di aumentare la difficoltà quando inizi ad apprendere un po' di più informazioni Per esempio Marte, vuoi sapere qualcosa su Marte? Cerca di imparare magari inizio la composizione, la temperatura per esempio è composta dalla superficie principalmente da ferro oppure le temperature vanno dai meno 140 gradi ai 20 gradi e così via Il secondo argomento che ti vorrei parlare oggi è del telescopio cioè quando inizi a osservare non prendersi un telescopio fantasmagorico con delle caratteristiche stupende che costi miliardi di soldi perché è un po' come se comprati a Ferrari ma non avessi la patente cioè nel senso che tu puoi comprati a Ferrari però se non sapresti guidare la Celeste in garage è un po' così con il telescopio ma di questo argomento ne vorrei parlare nel prossimo video quindi iscrivetevi e attivate la campanellina Il terzo consiglio che ti vorrei dare sono dei libri sono per il punto 3 che mi hanno aiutato ad entrare in questo bellissimo mondo il primo ti vorrei parlare di Missione Marte dell'Asi che parla appunto come vedete di Marte, della storia, delle missioni, future passate e di molta altra roba ed è, va molto nel dettaglio però sono riuscito a leggerlo io a 11 anni e l'ho capito quindi vuol dire che è abbastanza facile e comprensibile questo libro, questa parte qua questo libro qua Atlantica di Astronomia è indispensabile perché è un po' come la mappa della vostra città o delle, un po' come Google Maps del cielo ecco ed è indispensabile perché ti fa vedere appunto tutte le costellazioni e le costellazioni bisogna studiarle e capire anche le stelle insomma questo qui è molto utile per chi vuole iniziare ad osservare il cielo l'ultimo che è diciamo quello anche forse molto bello secondo me non più importante ma bello perché ti parla delle neburose galattiche quindi galassie, nebulose insomma è molto bello io l'ho letto tutto ed è bellissimo mi hai dimenticato di dirmi che tutti questi libri che avete visto quindi Missione Market questi libri qua aspetta ve li prego tutti questi libri qua li ho messo il link in descrizione siamo arrivati quasi alla fine con il quarto consiglio di oggi e ti consiglio di essere molto ma molto ma molto periodico di pazienza perché perché la pazienza in astronomia ce la devi avere e se non ce la ti consiglio di crearti soprattutto si può iniziare ad osservare le stelle se non sei paziente non ce la farai cioè ce la puoi fare però ti rischi di innervosirti e non sarebbe una bella esperienza ecco per te quindi cerca di crearti la pazienza con il quinto consiglio di oggi ti voglio consigliare di cercare nella tua zona, nella tua regione degli eventi astronomici perché primo ti fanno aumentare il tuo bagaglio di informazioni e per seconda ti confronti con le altre persone e magari ti crei anche un po' di esperienza e oppure se non trovi degli eventi ci sono molti gruppi su facebook che scrivono molte notizie, molte cose, cosa fanno e cosa no ed è molto utile per chi vuole iniziare a osservare a entrare in questo bellissimo mondo di astronomia e il consiglio bonus è divertiti prova a fare cose anche magari che non sono magari giuste ma magari sbagli, prova, riprova cerca di crearti delle tue esperienze quindi prova, divertiti, crea e mi raccomando devi essere curioso perché senza curiosità non ti domanderei mai il perché delle cose ebbene sì il video di oggi è finito ma noi ci vedremo presto con un nuovissimo video e quindi ciao